Fondamentale è quello di aver definito un target. Una volta che tu hai definito un target, che cosa devi fare? Devi a quel punto lì imparare a flirtare. Il flirt è fondamentale nella seduzione, però ripeto, il flirt o le strategie di seduzione in generale funzionano soltanto con la persona adatta a te, perché se tu ti innamori di uno completamente distonico, ti innamori dell'amore impossibile, e allora sei scema tu, cioè questo io non mi stancherò mai di dirlo. Chi? Ah, mi innamoro, è perché è una parte emotiva talmente affamata che va, è una parte emotiva talmente affamata che si mangia polpette avvelenate, perché questo è il concetto di fondo. Se la tua parte emotiva è affamata è come un cane, un cane da guardia, o una cagna in questo senso, che la tieni affamata, e allora questa mangerà la prima polpetta avvelenata del lato che passa. Quindi questo è il primo punto fondamentale. L'amore, come tutte le cose nella vita, sicuramente ha delle parti emotive, ma noi dobbiamo gestirlo su un piano logico-razionale. Su un piano logico-razionale dobbiamo gestirlo. Bisogna fare scelte strategiche interessanti per trovare l'uomo giusto. Ad esempio, Kate Middleton, com'è che ha fatto ad accalappiare il principe William? Beh, lei, cioè anche se si dice dopo, ha aspettato che il principe, era una bella ragazza, comunque la madre ha aspettato, la madre tra l'altro, che il principe William dichiarasse in quale università scegliesse di andare, e poi ha la figlia che era iscritta in un'altra università, disiscritta la figlia in quell'università lì e l'ha scritta nella stessa università del principe William. Questo è un punto fondamentale. Una volta che tu hai definito che tipo di uomo vuoi, devi frequentare dei luoghi dove è possibile conoscere quel tipo di uomo. Ed è interessante la seduzione di Kate Middleton. Faccio questo esempio perché Kate Middleton, che sì, era sicuramente una famiglia benestante e tutto, però è riuscita, diciamo, a far innamorare e a sposarsi poi con, potremmo definire, uno degli uomini più importanti in assoluto, no? Sposarsi con il principe William, il re dal trono d'Inghilterra, anzi, non è che sia un qualcosa da poco, no? Quindi una volta che tu hai definito il target di persone che vuoi sedurre, che vuoi conquistare, devi iniziare a frequentare i posti dove ci sono queste persone, come ha fatto Kate Middleton. Ha iniziato a frequentare l'università dove c'era anche il principe William. Non è che frequentava l'università dove c'era quello lì con la borsa di studio, cioè ha fatto un investimento, però, perché ovviamente il principe William non è che andava nell'università, come dire, scalcinata, di seconda mano, insomma, frequentava, quindi è anche un investimento. Tu non puoi sperare di trovare, diciamo, l'uomo di alto valore, di successo affermato, ricco, benestante, colto andando da ciccio giropizza 5 euro, oppure andando nel locale da Gigino il Bibitaro. Perché se vai nel locale da Gigino il Bibitaro, troverai, diciamo, cosa troverai? Troverai catramisti, troverai... oppure molte donne che ambiscono l'uomo di successo, poi vanno nel locale latinoamericano, dove nulla contro i cubani, ma dove trovi i ragazzi cubani che per carità saranno anche belli, io non metto in dubbio, possono piacere, ma diciamo... ma sicuramente non corrispondono a un target di alto valore. Poi il discorso di Kate Middleton è stato un discorso intelligente, cioè lei si è lasciata da un'università e si è iscritta proprio in quell'università lì dove c'era il principe William. Come dire, magari non aveva in mente di seduare proprio lui, ma secondo me sì, perché comunque era una bella ragazza, comunque ci sapeva fare, e in effetti è riuscita ad agganciarlo, no? E questo è, no? Poi potrebbe... avrebbe potuto anche non riuscirci, per carità. Questo è un punto fondamentale, avrebbe potuto anche non riuscirci, questo è un punto fondamentale. Però devi imparare a definire esattamente quello che vuoi, il tipo di uomo che vuoi, e come dire, ma lo stesso discorso vale nella caccia e nella pesca, eh? Se io voglio pescare le trote, dovrò andare in un fiume di acqua dolce, in un lago di acqua dolce. Non è che posso andare a pescare le trote, così dire, nel mar Baltico, diciamo che nel mar Baltico le trote non ci sono. Posso stare anche tutta la vita a cercare di pescare trote nel mar Baltico, non ne troverò mai una. Come se voglio pescare, che ne so, il tonno e vado nel lago, che ne so, nel laghetto di periferia della tua città, non è che riesci a trovare il tonno lì. Quindi bisogna frequentare gli ambienti giusti. Una volta che hai definito quello che vuoi, devi andare a frequentare gli ambienti che desideri, che dove è possibile trovare questa persona. Ma questo non è che ci va tanta intelligenza, eppure molte persone non lo fanno. Molte persone continuano a frequentare i soliti posti sperando di trovare persone diverse. È inutile se continuano ad andare nella tua palestra per dire, per cercare di fare conoscenze interessanti, ma la tua palestra è una di quelle palestre, diciamo, low cost, dove ci vanno tutti i ragazzetti per spendere poco, la palestra da 19,90 al mese. Ma lì chi vuoi trovare? Cioè, nel senso, supponendo che per te sia interessante un target di persone di un certo livello, magari anche sociale, economico, non puoi pensare di trovare, eh, ma io vado lì perché costa poco, eh, ma allora, come dire, se vai lì perché costa poco, cazzi tuoi, non ti lamentare, poi se in quei posti lì non riesci a trovare la persona che ti interessa. Qua questo è veramente fondamentale. Poi non è detto che bisogna essere straricca. Ad esempio c'era Lori del Santo, che non è che era ricca di suo, però frequentava ambienti cinematografici, ho visto anche delle interviste interessanti, e lei sapeva, sapeva, diciamo, sapeva infiltrarsi, tra virgolette, e frequentare luoghi dove poteva incontrare, e lei comunque ha avuto personaggi importanti, anche sheikhi arabi, cantanti famosi, adesso non mi ricordo il nome, e comunque Eric Clapton, mi sembra, insomma, ha conosciuto personaggi importanti perché ha frequentato quell'ambiente lì. Poi, per carità, se tu vuoi, se a te piace, se a te piace la ragazza cubana per dire, vai a Cuba, non lo so, cioè, faccio l'esempio di un uomo, se ti interessa la ragazza brasiliana, vai in Brasile, vai anche nella favela del Brasile e troverai di sicuro, no? Perché poi qui molti uomini magari vanno alla ricerca di luoghi, ma dipende sempre dall'obiettivo che tu hai, insomma, nella testa, come dire, se tu vai nei peggiori bar di Caracas, non troverai il principe William, per dire, o non troverai il ricco industriale. Nel peggiore bar di Caracas, o nel peggiore bar, che ne so, della tua città, del, che ne so, del porto, nella tua città o del coso, se vai nei peggiori bar del porto di Genova, lì troverai, come dire, portuali, troverai personaggi di un certo tipo. Quindi dipende sempre da quello che vuoi, ma la cosa importante è che tu devi imparare a, tu devi imparare a puntare il target che tu desideri. Qualunque sia il target, io non sto dicendo il target, purtroppo le donne non lo fanno, non lo fanno, non fanno questo, ma io non sto dicendo che devi trovare un uomo ricco o una donna ricca, è un esempio. Ho fatto un semplice esempio, uno potrebbe anche scegliere una donna di qualunque natura. L'importante è che fai una scelta che ti possa piacere, quindi perché nessuno ti deve dire cosa devi scegliere, ognuno deve puntare su ciò che vuole. Io faccio l'esempio, in questo momento, di un uomo, di una donna benestante, ma anche culturalmente, come dire, di una cultura elevata, perché è quello che può interessare a me, ma non dico che quello che può interessare a me deve interessare anche agli altri. Quindi bisogna imparare a frequentare questo tipo di ambienti, ambienti dove puoi trovare, no? Se vai alla ricerca di un uomo alto e non vai a cercarlo tra i nani del circo, andrai a cercarlo tra i giocatori di basket, ma sembra una cosa banale, sembra una cosa banale, no, questa, eppure le persone vanno a cercare altre persone nei luoghi dove è più improbabile trovarli, soltanto perché loro sono abituati a fare quello. Sono abituati a frequentare quella palestra, cercano un uomo di un certo tipo che in quella palestra non ci andrà mai, per fare un esempio, o in quella scuola non ci andrà mai, in quel club non ci andrà mai, in quel luogo non ci andrà mai, e quindi, e quindi, diciamo, e quindi devi agire. L'amore è parzialmente irrazionale, perché se noi ci lasciamo guidare dalle irrazionalità, siamo fottuti, noi dobbiamo imparare a gestire l'irrazionale attraverso la logica. La parte emotiva è come un cavallo selvaggio, noi non possiamo precluderci di vivere delle emozioni, ma non possiamo, le emozioni sono come un cavallo selvaggio, non possiamo lasciarla andare dove vuole, dobbiamo indirizzarlo, e quindi il nostro compito è quello di indirizzarlo. La parte emotiva ha la forza, la parte logica deve avere l'intelligenza, no, il connubio, ad esempio, che ci può essere tra un bambino indiano di 30 kg e un elefante di 3 tonnellate. La forza ce l'ha all'elefante, però è il bambino indiano che lo guida, la parte logica, la parte razionale, no? Quindi noi dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni, non lasciarci travolgere dalle nostre emozioni. Poi, uno dice, sì, ma io mi sono innamorata di un uomo sposato, conosco una mia amica che quella ha lasciato la moglie. Tutto è possibile, per carità, può essere a darsi che un uomo sposato lascia anche la moglie, ma se tu vuoi puntare proprio su un uomo sposato perché vuoi mettere su famiglia, sei una cretina, no? Perché le probabilità che lasci la moglie sono basse e poi rischieresti di perdere tempo, no? Cioè, come dire, tutto è possibile, ma per carità, anche un uomo sposato può lasciare la moglie, ma una donna che ricerca un suo matrimonio e punta su un uomo sposato è stupida. È come dire, è uno che va a ricercare l'ago nel pagliaio, vai a cercare l'ago nel pagliaio, se poi non lo trovi, cosa fai? Devi imparare a seguire, come dire, devi imparare a seguire, come dire, devi imparare a, ad agire dove le probabilità sono più alte. Questo è un altro punto fondamentale. E poi, a quel punto lì, si possono applicare le strategie di seduzione, perché le strategie di seduzione funzionano, funzionano molto bene, ma non devi lasciarti trascinare dalle emozioni, perché se tu ti lasci trascinare dal, le emozioni ti porteranno ad esempio a cercare il bastardo selezionato, no? Quello che ti darà forti tensioni emozionali, che ti rivolterà come un calzino, che ti farà soffrire. Se ti va bene così, amen! Però poi non devi lamentarti, il problema della malgasciona è che poi si lamenta. La malgasciona poi si lamenta, trova un uomo che la fa soffrire, dice, gniiii, guarda quello stronzo, continua a stare con la moglie, continua a prendermi per il culo, dice che la moglie, che lascerà la moglie e non la lascia, oppure guarda quello stronzo, continua a cornificarmi, e tu continui a lamentarti, ma siamo in 8 miliardi, manda a cagare quelli e trovatene altri. Nel frattempo iscritti al canale, attiva la campanella, così riceverai anche le notifiche dei nuovi video, ovviamente seguimi su Instagram, fai donazioni al canale, becca malgasciona, carampana, fai donazioni al canale e andiamo avanti, andiamo avanti.